Ciao a tutti ragazzi come state? Bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi andiamo a fare un indovina al mazzo challenge con mio fratello Ciao Ragazzi la challenge consiste nell'indovinare da bendato un mazzo Magari facendo riferimento alla scatolina o alla qualità delle carte Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito col video Ragazzi non ho una benda quindi utilizzo la mascherina Però ragazzi vi assicuro che non si vede neanche niente L'ha provata anche lui vero? Sì, fermi Quindi ragazzi io mi venderò, lui vi farà vedere un mazzo e me lo darà Allora per me possiamo fare con questo Ragazzi niente rilevi nella scatolina, zero Oh qui c'è un bollino Quindi ragazzi c'è il bollo questo mazzo quindi è anche un po' raro Niente rilevi, devi aprirlo C'è il bollino Allora pure il car di studio è bendato Mi sa tanto di qualità bicycle raga Qualità bicycle, allora cosa c'è col bollino che non ha rilevo nella scatolina? Le asteroids no Perché c'è a rilevo dell'asteroide Allora le asteroid no perché c'è a rilevo dell'asteroide Cos'è che c'è poi? Ah le fire, qualità base, sì, le bicycle fire Bravo Su quelle? Sì sì Bomba Secondo mazzo Questa roba è distrutto raga È disintegrato questo mazzo Mamma mia Chi è che tiene i mazzi così? Io boh Ma qualità bella morbida Se neanche così qua le bicycle Però non so Cioè è ancora più morbido le bicycle Quindi tra tutti quelli che c'ho io Direi supreme line Bicycle blue supreme line Bravo Quello è Il prossimo mazzo potremmo andare con il bot Con il che? Con il bot La catena boomer Che mazzo è? Che cacchio mi ha dato? Bruno ha inventato uno Che cacchio è? Ma che roba è? Ma che cacchio è? Ma raga non ne ho idea Allora dovremmo vedere Dai la scatolina Allora I copini non sono perché Sono nuove Credo che Sento tela Le jeans Sì Sì? Madonna È una sera difficile questo Sicuramente? Sì è tela La qualità delle fatte è tela 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 E cos'è la tela? Sì fai così Vedi tu la tela Il prossimo dai? Ok ecco il prossimo Qua un po' a rilevo Qua anche Forse raga ho capito Cos'è ma voglio accertarmi Vediamo un po' Dovrebbero essere l'asteroids E Barsico ha l'asteroids Qualità Barsico Davanti alla scatolina ci sono Bravo Due cose Quindi dovrebbero essere l'asteroids Bravo Bomba Bomba Uh raga quanti siamo? Quanti siamo indovinati? Per ora tre Quattro Mettiamo stata di difficoltà frate Per ora quattro Ho un'altra difficoltà No tre Tre Così non vi ho Per ora quattro Raga io di meno mi fai Dentro i mazzi così Dentro la scatolina così Il prossimo C'è un'altra volta Il bollo Ma cos'è? Un po' bombato Credo No Ritiro tutto Cos'è sto? Cos'è sta roba? Non dovrebbe essere tela Invece si Però vai Ma raga Sono stupido Sono le bicycle Le bicycle standard Sono stupido io Quelle siano quelle? Sono quelle Sicuro? Sì Veramente? Sì Ok Allora Hai fatto bene Ma Sono nuove Easy Beh Easy manco tanto Se lo dico io È Easy Trasmetti di parlare Con Fortnite Easy Fortnite Fuori E raga Come sempre è tutto Io vi ringrazio Avete visto il video E come sempre Noi siamo al prossimo video Ciao raga Ciao